30. Due figure avanzavano lentamente lungo l'interstatale 80, con le innevate montagne pocono della Pensilvania orientale alle loro spalle. La neve caduta era di un grigio sporco e da essa spuntavano rocce che assomigliavano a verruche cresciute nella carne di un lebroso. Dell'altra neve grigia stava cadendo da un cielo cupo e verde malaticcio, privo del sole, e si bilava piano tra le migliaia di noci, querce e olmi neri e privi di foglie. I sempreverdi erano diventati marroni e stavano perdendo i loro aghi. Da un orizzonte all'altro, per quanto sorella e arti riuscivano a vedere, non c'era vegetazione verde, nemmeno un rampicante o una foglia. Il vento si agitava intorno a loro, soffiandogli in faccia la neve cinerea. Entrambi erano avvolti in strati di vestiti che avevano raccolto tra le rovine nei ventuno giorni passati da quando erano sfuggiti al mostro che chiamava se stesso Doyle Holland. Avevano trovato un grande magazzino Sears saccheggiato nella periferia di Paterson, New Jersey, ma quasi tutto era stato portato via, tranne alcune merci sul retro, sotto un grande cartello con ghiaccioli dipinti, su cui c'era scritto svendita invernale a luglio, risparmia con Sears. Gli scaffali e i tavoli non erano stati toccati e fruttarono dei pesanti cappotti di lana a spina di pesce, sciarponi scozzesi, cappelli di lana e guanti foderati di coniglio. C'erano addirittura indumenti intimi termici e una scorta di stivali, che arti elogiò come articoli d'alta qualità. Adesso, dopo oltre 150 chilometri, gli stivali erano a posto, ma i loro piedi erano insanguinati, avvolti in stracci e giornali dopo che i loro calzini erano caduti a pezzi. Entrambi portavano zaini di tela sulla schiena, pieni di altri oggetti recuperati. Barattoli di cibo, una priscatole, un paio di affilati coltelli multifunzione, qualche fiammifero, una torcia e batterie di scorta e il ritrovamento fortunato di una confezione da sei di birra Olimpia. Appeso alla spalla, sorella portava anche un borsone trovato nel negozio di articoli militari dell'esercito e della marina di Patterson, che aveva preso il posto della più piccola borsa Gucci e che conteneva una coperta termica, alcune bottiglie d'acqua per rie e alcune confezioni di affettati trovate in un negozio di alimentari, quasi vuoto. In fondo al suo borsone c'era il cerchio di vetro, collocato in modo che sorella potesse toccarlo attraverso la tela in qualunque momento. Uno sciarpone rosso e un cappello di lana verde elettrico proteggevano il volto e la testa di sorella dal vento, e la donna era avvolta in un cappotto di lana indossato sopra due maglioni. Degli ampi pantaloni marroni in velluto a coste e dei guanti di pelle completavano il suo abbigliamento e con il peso che premeva su di lei si muoveva lentamente nella neve, ma almeno era calda. Anche Arti era avvolto in un cappotto pesante, uno sciarpone blu e due cappelli uno sopra l'altro. Soltanto l'aria intorno ai loro occhi era esposta alla bufera di neve, con la pelle scorticata e bruciata dal vento. La neve grigia e brutta vorticava intorno a loro. Il manto dell'interstatale era coperto da uno strato di circa 15 centimetri e lo spessore aumentava ancora di più nella foresta spoglia e nelle profonde crepe su entrambi i lati della strada. Camminando qualche metro davanti a Arti, sorella sollevò la mano e indicò verso destra. Procedette con fatica verso quattro ammassi scuri che giacevano nella neve e vide i cadaveri congelati di un uomo, una donna e due bambini. Indossavano tutti abiti estivi, magliette e pantaloni leggeri. L'uomo e la donna erano morti tenendosi per mano. Solo che il terzo dito della donna era stato tagliato. La sua fede noziale, pensò sorella. Qualcuno aveva tagliato l'intero dito per prenderla. Le scarpe dell'uomo erano sparite e i suoi piedi erano neri. I suoi occhi affossati scintillavano, ricoperti di ghiaccio grigio. Sorella si voltò. Da quando erano entrati in Pennsylvania, superando un grande cartello verde, su cui c'era scritto «Benvenuti in Pennsylvania, il Keystone State a circa 50 chilometri e sette giorni di distanza, avevano trovato quasi 300 cadaveri congelati sull'interstatale 80. Per un po' si erano riparati in una cittadina chiamata Straussburg, che era stata devastata da un tornado. Le case e gli altri edifici erano stati sparpagliati sotto la neve sporca, come i giocattoli rotti di un gigante pazzo. E c'erano anche stati moltissimi cadaveri. Sorella e Arti avevano trovato un pick-up con il serbatoio vuoto sulla strada principale della cittadina e avevano dormito nell'abitacolo. Poi erano tornati di nuovo sull'interstatale, dirigendosi verso Ovest nei loro stivali ottimi e pieni di sangue, superando altri massacri, autodistrutte e roulotte ribaltate, che dovevano essere finiti in un ingorgo di traffico in fuga verso Ovest. Il cammino era duro. Riuscivano a fare al massimo otto chilometri al giorno, prima di dover trovare riparo. I resti di una casa, un fienile, il relitto di un'auto, qualsiasi cosa che potesse respingere il vento. In ventuno giorni di viaggio avevano visto soltanto altre tre persone vive. Due di esse erano pazzi furiosi e la terza si era data a una fuga folle nella foresta, quando li aveva visti arrivare. Sia sorella che Arti erano stati malati per un po'. Avevano tossito, vomitato sangue e sofferto di mal di testa lancinanti. Sorella aveva pensato che stava per morire e avevano dormito abbracciati, ciascuno dei due respirando come un mantice. Ma la parte peggiore del malessere e del leggero stordimento da febbre era sparita e anche se entrambi a volte tossivano ancora in modo incontrollato e vomitavano un po' di sangue, le loro forze erano tornate e non avevano più mal di testa. Si lasciarono alle spalle quattro cadaveri e presto arrivarono al relitto di una roulotte Airstream. Una Cadillac bruciata c'era finita contro e una Subaru aveva tamponato la Cadillac. Nelle vicinanze altre due auto si erano scontrate ed erano bruciate. Più in là un altro gruppo di persone giaceva là dove era morto congelato, con i corpi abbracciati l'uno all'altro nella vana ricerca di calore. Sorella li superò senza fermarsi. Il volto della morte non le era più estraneo, ma non sopportava di guardare troppo da vicino. Una cinquantina di metri più avanti, sorella si fermò di colpo. Proprio davanti a lei, nella neve che vorticava in aria, un animale stava masticando uno di due cadaveri distesi contro il guardrail sulla destra. L'animale alzò lo sguardo e si irrigidì. Sorella vide che era un grosso cane, forse un lupo sceso dalle montagne per nutrirsi. L'animale aveva all'incirca la taglia di un pastore tedesco, con un muso lungo e una pelliccia grigio-rossastra. aveva masticato una gamba fino all'osso e adesso era accovacciato sulla sua preda e fissava sorella minaccioso. Se quel bastardo vuole carne fresca siamo morti, pensò. Restitui lo sguardo all'animale e si sfidarono per quasi trenta secondi. Poi quello emise un ringhio breve e basso e tornò a mangiare. Sorella e Arti fecero un largo giro intorno alla bestia e continuarono a guardarsi alle spalle fino a quando non superarono una curva e l'animale non fu più in vista. Sorella tremò sotto il peso dei suoi abiti. Gli occhi della bestia le avevano ricordato quelli di Doyle Halland. La paura che aveva di lui peggiorava quando calava l'oscurità e sembrava non esserci nessuna regolarità nel suo arrivo, nessun crepuscolo o segno che il sole stesse calando. L'oscurità poteva calare dopo due o tre ore di buio o ritardare per quelle che sembravano ventiquattro ore, ma quando calava era assoluta. Nel buio, qualsiasi suono era sufficiente perché sorella si mettesse a sedere e tendesse l'orecchio con il cuore che batteva rapido e un sudore freddo che le compariva sul volto. Lei aveva qualcosa che quell'essere che era Doyle Halland voleva, qualcosa che lui non comprendeva, proprio come di certo non lo comprendeva lei, ma per prenderlo aveva giurato di inseguirla. E cosa avrebbe fatto con l'anello di vetro se lo avesse preso? L'avrebbe fatto a pezzi? Probabilmente. Lei continuava a guardarsi alle spalle mentre camminava, timorosa di vedere una figura scura che si avvicinava dietro di lei con la faccia deforme e denti seghettati esposti con un ghigno simile alla bocca di uno squalo. «Ti troverò», aveva promesso. «Ti troverò, stronza». I giorni prima si erano riparati in un fienile crollato e avevano acceso un piccolo fuoco nella paglia. Sorella aveva tirato fuori l'anello di vetro dal suo borsone, aveva pensato alla sua palla otto che prevedeva il futuro e aveva chiesto mentalmente che cosa ci aspetta. Ovviamente non ci fu nessun piccolo poliedro bianco che emerse per dare risposte generiche, ma i colori dei gioielli e il loro ritmo pulsante e regolare l'avevano calmata. Si era sentita scivolare, incantata dal bagliore dell'anello. E poi sembrò che tutta la sua attenzione, tutta la sua essenza, fosse attratta sempre più in profondità nel vetro, sempre più in profondità come se entrasse nel cuore vero e proprio del fuoco. E poi aveva di nuovo camminato nel sogno. Su quel paesaggio brullo dove c'era la cupola di detriti e la bambola del cookie monster giaceva in attesa di un bambino perduto. Ma questa volta era diverso. Questa volta lei stava camminando verso la cupola, con la sensazione che i suoi piedi non toccassero del tutto il terreno, quando si era fermata all'improvviso ed era rimasta in ascolto. Aveva pensato di aver sentito qualcosa nel rumore del vento. Un suono attutito che avrebbe potuto essere una voce umana. Aveva ascoltato. Si era sforzata per sentirlo di nuovo, ma non c'era riuscita. Poi aveva visto una piccola buca nel terreno cotto, quasi ai suoi piedi. Mentre stava guardando immaginò di vedere che la buca stava iniziando ad allargarsi e che il terreno si stava crepando e tendendo intorno a essa. L'istante dopo, sì, sì, la terra si stava crepando e la buca stava diventando più grande, come se qualcosa stesse spingendo da sotto. Aveva guardato, sia timorosa che affascinata, mentre i lati della buca si sgretolavano e aveva pensato «non sono sola». Dalla buca era uscita una mano umana. Era chiazzata di grigio e bianco, una mano grande, la mano di un gigante, e le grosse dita avevano artigliato verso l'alto, come quelle di un uomo morto che usciva scavando da una tomba. Quella vista l'aveva spaventata così tanto che si era allontanata con un salto dalla buca che si allargava. Aveva avuto paura di vedere che genere di mostro stesse per emergere, e mentre correva sulla pianura vuota aveva desiderato freneticamente «portami indietro, per favore, voglio tornare dov'ero!» e si era ritrovata seduta davanti al piccolo fuoco, nel fienile crollato. Artie l'aveva guardata con aria interrogativa, con la pelle scorticata intorno ai suoi occhi, simile alla maschera del Ranger solitario. Gli aveva raccontato quello che aveva visto, e lui le aveva chiesto cosa pensava che significasse. Ovviamente lei non ne aveva idea. Certo, probabilmente si trattava solo di qualcosa venuta fuori dalla sua mente, forse una risposta a tutti i cadaveri che aveva visto sull'autostrada. Sorella aveva rimesso l'anello di vetro nel borsone, ma l'immagine della mano che spuntava dal terreno le si era incisa nella mente. Non riusciva a togliersela dalla testa. Adesso, mentre arrancava nella neve, sorella toccò i contorni dell'anello nel borsone. Il solo sapere che era lì la rassicurava, e quella era tutta la magia di cui aveva bisogno in quel momento. Le sue ginocchia si bloccarono. C'era un altro lupo, cane inselbatichito o qualsiasi cosa fosse, sulla strada davanti a lei, a circa cinque metri di distanza. Era magro, con ferite rosse aperte nella pelliccia. I suoi occhi fissavano quelli della donna, e le sue labbra si ritrassero lentamente dalle zanne con un ringhio. «Oh, merda!» fu la sua prima reazione. Questo sembrava più affamato e disperato dell'altro, e alle sue spalle, nella neve grigia, ce ne erano altri due o tre che si spostavano a destra e a sinistra. Sorella si guardò alle spalle, superando Arti con lo sguardo. C'erano altre due sagome di lupi dietro di loro, mezze nascoste dalla neve, ma abbastanza vicine perché potesse vederne i contorni. La sua seconda reazione fu «Siamo carne per Ambur!» qualcosa si mosse sulla sinistra, un movimento confuso, e si abbatté sul fianco di Arti. Lui urlò di dolore mentre cadeva, e l'animale che, pensò sorella, avrebbe potuto essere l'animale grigio-rossastro che avevano visto divorare un cadavere, afferrò un lato dello zaino di Arti tra i denti, scuotendo con violenza la testa da un lato all'altro, tentando di strapparglielo dalla schiena. Sorella allungò la mano in basso per afferrare quella tesa di Arti, ma l'animale trascinò l'uomo nella neve per tre metri prima di lasciarlo andare, e corse via, fermandosi appena al margine della visibilità. Continuò a camminare in cerchio e a leccarsi le fauci. Sorella sentì un ringhio gutturale, e si voltò proprio mentre l'animale con le ferite rosse le si avventava contro. Le colpì la spalla, e la fece rovinare a terra. Le sue zanne si chiusero a pochi centimetri dalla faccia della donna, con il rumore di una tagliola che si chiude. Sorella sentì l'odore di carne marcia nell'alito dell'animale, e poi questo le afferrò la manica destra del cappotto e iniziò a strattonarla. Un'altra bestia fece una finta sulla sinistra, e una terza si lanciò avanti audacemente, e le afferrò il piede destro, tentando di trascinarla. Lei colpì e urlò. L'animale magro si spaventò e scappò, ma l'altro la trascinò sul fianco attraverso la neve. Sorella strinse il borsone tra le braccia e scalciò con lo stivale sinistro, colpendo l'animale tre volte sul cranio prima che guaisse e la liberasse. Dietro di lei, Arti era attaccato da due animali contemporaneamente, da lati opposti. Uno gli aveva afferrato il polso, con i denti che avevano quasi trovato la carne attraverso il suo cappotto pesante e il maglione, mentre il secondo gli azzannava la spalla sinistra e lo mordeva con una frenetica esplosione di forza. «Andate via! Andate via!» stava urlando lui, mentre le belve si strattonavano l'un l'altra, tentando di trascinarlo in direzioni opposte. Sorella tentò di alzarsi, scivolò nella neve e ricadde pesantemente a terra. Il panico la colse come un pugno allo stomaco. Vide Arti trascinato da un animale che gli teneva il polso e si rese conto che stavano cercando di separarli, proprio come avrebbero potuto separare una mandria di cervi o bovini. Mentre tentava di rialzarsi, uno di loro balzò e le afferrò la caviglia, allontanandola di qualche altro metro da Arti. Adesso l'uomo era soltanto una figura che si agitava, circondato dalle sagome degli animali che gli giravano intorno nella turbinante oscurità grigia. «Vai via, bastardo!» gridò. La bestia la strattonò così forte da farle pensare che la sua gamba si fosse staccata dall'articolazione. Con un urlo di rabbia, sorella lo colpì con il borsone sul muso e l'animale fuggì. Ma un secondo dopo, un altro si era messo sopra di lei, tentando di azzannarle la gola. Lei sollevò il braccio e le zanne vi si chiusero sopra con forza brutale. Il lupo-cane iniziò a lacerare il tessuto del suo cappotto. Lei lo colpì nelle costole con il pugno sinistro e lo sentì grugnire, ma quello continuò a lacerare il cappotto, raggiungendo il primo maglione. Sorella sapeva che quel figlio di puttana non si sarebbe fermato prima di assaggiare la carne. Lo colpì di nuovo e tentò di divincolarsi, ma adesso qualcosa le aveva afferrato di nuovo la caviglia e la stava trascinando in un'altra direzione. Sorella vide la folle immagine mentale di una caramella gommosa tirata fino al punto di spezzarsi. Sentì un colpo secco e pensò che questa volta la sua gamba si fosse spezzata. Ma l'animale che le stava azzannando la spalla guai e saltò, fuggendo all'impazzata nella neve. Si udì un secondo colpo, subito seguito da un terzo. Il lupo-cane che le azzannava la caviglia tremò e rantolò. E sorella vide del sangue schizzare da un buco nel suo fianco. L'animale la lasciò andare e iniziò a girare su se stesso, tentando di azzannarsi la coda. Si udì un quarto sparo. Sorella si era resa conto che la bestia era stata colpita da un proiettile e sentì un ululato d'agonia dal punto in cui giaceva Arti. Poi gli altri animali fuggirono, scivolando e inciampando l'uno nell'altro, nella fretta di allontanarsi. Sparirono dalla vista in cinque secondi. L'animale ferito cadde sul fianco a qualche metro di distanza da sorella, con le zampe che scalciavano frenetiche. Lei si mise a sedere, confusa e perplessa, e vide che anche Arti cercava a fatica di alzarsi. I suoi piedi scivolarono sotto di lui e ricadde a terra. Una figura che indossava un passamontagna verde scuro, una consunta giacca di pelle marrone e dei jeans, passò accanto alla donna. Indossava racchette da neve legate a degli stivali consumati e intorno al collo portava una corda che attraversava i colli di tre bottiglie di plastica vuote, annodata all'estremità, per impedire che le bottiglie scivolassero via. Sulla schiena portava uno zaino da escursionista verde scuro, un po' più piccolo di quelli che portavano loro. Si fermò sopra a sorella. «Stai bene?» La sua voce suonava come lana d'acciaio strofinata su una padella di ghisa. «Sì, penso di sì». Aveva lividi su lividi, ma non c'era nulla di rotto. L'uomo piantò nella neve il calcio del fucile che portava, poi si tolse dalla spalla la corda che teneva le bottiglie di plastica. Mise a terra anche questa, accanto all'animale ancora scalciante. Si tolse lo zaino, lo aprì con le mani guantate e ne estrasse un assortimento di contenitori di plastica con coperchio di varia grandezza. Li sistemò in una fila ordinata nella neve davanti a sé. Arti arrancò fino a raggiungerli, tenendosi il polso. L'uomo con il passamontagna alzò lo sguardo rapidamente e poi continuò il suo lavoro, togliendosi i guanti e sciogliendo uno dei nodi della corda per sfilare le bottiglie. «Il figlio di puttana ti ha beccato?» chiese ad Arti. «Sì, mi ha ferito la mano, ma sto bene. Tu da dove sei arrivato?» «Da lì». Mosse la testa verso la foresta e poi iniziò a svitare i tappi delle bottiglie con le dita che stavano arrossendo rapidamente. L'animale scalciava ancora violentemente. L'uomo si alzò, estrasse il fucile dalla neve e iniziò a spaccare il cranio della bestia con il calcio dell'arma. Ci volle un minuto, ma alla fine quella emise un gemito attutito, tremò e restò ferma. «Non pensavo che qualcun altro sarebbe passato da queste parti», disse l'uomo. «Pensavo che tutti se ne fossero andati da tempo ormai». Si inginocchiò accanto alla carcassa, estrasse un coltello con una lama lunga e ricurva dalla borsa che portava alla cintura e fece un taglio nel ventre grigio. Il sangue iniziò a scorrere. Prese una delle bottiglie di plastica e la tenne sotto il flusso. Il sangue vi scorse allegramente, riempiendo rapidamente la bottiglia. Le rimise il tappo, la accantonò e ne prese un'altra, mentre sorella e Arti guardavano disgustati e affascinati. «Pensavo che tutti fossero morti ormai», continuò, prestando la massima attenzione al suo lavoro. «Voi due di dove siete?» «Detroit», riuscì a dire Arti. «Arriviamo da Manhattan», gli disse sorella. «Stiamo andando a Detroit». «Avete finito la benzina? Ci è fuso il motore?» «No, stiamo andando a piedi». L'uomo grugnì, le lanciò un'occhiata e poi tornò alla sua occupazione. Il flusso di sangue si stava indebolendo. «È molta strada da fare a piedi», disse. «Un viaggio dannatamente lungo, soprattutto se è inutile». «Che vuoi dire?» «Voglio dire che non c'è più nessuna Detroit. È stata bombardata. Proprio come non c'è più nessuna Pittsburgh, Indianapolis, Chicago o Philadelphia. Mi sorprenderebbe se fosse rimasta anche una sola città. A questo punto credo che le radiazioni abbiano colpito anche i piccoli borghi». Il flusso di sangue si era quasi fermato. Richiuse la seconda bottiglia, piena circa fino a metà, e poi fece un taglio più lungo nella pancia dell'animale. Infilò le mani nude nella ferita fumante, fino ai pulsi. «E questo non lo sai», disse Arti. «Non puoi saperlo». «Invece lo so», rispose l'uomo, ma senza aggiungere altro. «Signora», disse. «Puoi iniziare ad aprirmi quei contenitori di plastica?» Lei fece come chiese, e lui iniziò a estrarre manciate di interiore insanguinate e fumanti. Le tagliò a pezzi e iniziò a riempire i contenitori. «Ho beccato anche l'altro bastardo», chiese ad Arti. «Cosa?» «L'altro a cui ho sparato. Credo che ricorderai che ti stava masticando il braccio». «Oh, giusto, sì». Arti guardò le interiora infilate in contenitori di plastica dai colori vivaci. «No, voglio dire, penso che tu l'abbia colpito, ma mi ha lasciato andare ed è fuggito». «Possono essere delle vere carugne», disse l'altro uomo, e iniziò a staccare la testa dell'animale dal collo. «Apri quel contenitore grande, signora», le disse. Infilò la mano nella testa tagliata e il cervello cadde con un tonfo nel contenitore grande. «Puoi rimettere i coperchi adesso», disse. Sorella lo fece, sul punto di soffocare per l'odore di rame del sangue. L'uomo si pulì le mani sulla pelliccia dell'animale e infilò di nuovo le due bottiglie sulla corda, rifacendo il nodo. Indossò i guanti, ripose il coltello nella borsa e i contenitori di plastica pieni nello zaino, e poi si rimise in piedi. «Voi due, avete armi da fuoco?» «No», rispose sorella. «E cibo?» «Abbiamo delle verdure in scatola e succhi di frutta, e anche dell'affettato». «Affettato?», rispose lui schifato. «Signora, non arriverai molto lontano in questo clima con l'affettato. Dite di avere delle verdure? Spero non siano broccoli. Li odio». «No, abbiamo del Gran Turco, fagiolini e patate». «Mi sembrano gli ingredienti per uno stufato. La mia capanna è a circa tre chilometri a nord di qua, in linea d'aria. Se volete venire con me siete i benvenuti. Altrimenti vi auguro un buon viaggio fino a Detroit». «Qual è la città più vicina?», chiese sorella. «St. Jones, immagino. La cittadina più vicina è Hazleton, e si trova a circa 16 chilometri a sud di St. Jones. Potrebbe esserci ancora qualcuno, ma dopo l'arrivo di quella marea di fuggitivi arrivati da Est, sarei sorpreso se trovaste Granché in una qualsiasi città lungo l'interstatale Ottanta. St. Jones è a sette o otto chilometri a Est». L'uomo guardò Artie, che stava gocciolando sangue sulla neve. «Amico, quella attirerà ogni mangiatore di carogne a distanza di odore. E credimi, alcuni di quei bastardi sentono l'odore del sangue da molto, molto lontano». «Dovremmo andare con lui», disse Artie a sorella. «Potrei dissanguarmi». «Ne dubito», ribatte l'uomo. «Non con un graffio come quello. Si congelerà in fretta, ma ti resterà l'odore del sangue sui vestiti. Come ho detto, scenderanno dalle montagne con coltelli e forchette tra i denti. Ma fate quello che volete. Io me ne vado». Si mise lo zaino sulle spalle, si gettò la corda sulla spalla e raccolse il fucile. «Fate attenzione», disse, e iniziò ad attraversare l'autostrada trascinando i piedi in direzione della foresta. A sorella servirono all'incirca altri due secondi per prendere una decisione. «Aspetta un attimo». Lui si fermò. «D'accordo. Verremo con te, signor». Ma lui si stava muovendo di nuovo, dirigendosi verso il bordo della foresta fitta. Non avevano altra scelta che affrettarsi a seguirlo. Artie si guardò alle spalle, con il terrore che altri predatori in agguato si avvicinassero. Le sue costole dolevano dove l'animale lo aveva colpito e le sue gambe sembravano corti blocchi di gomma morbida. Lui e sorella entrarono nella foresta dietro alla sagoma dell'uomo con il passamontagna e si lasciarono alle spalle l'autostrada della morte.